ragazzi ora è l'ora di aprire le casse questo è il video della storia partiamo dalle casse allora dovrei riuscire a dire ok ok questa è buona ma non è buona pure c'è il porto di oro la cassa no ragazzi solo che sto guardando il video oh maxine maxine oh rosa maxine ragazzi dopo ne ho credo ragazzi e questo era tutto gratuito gratuito ok ragazzi ora vale momento delle mega casse questa è buona dai almeno l'ultimo ci devi dare vita dalle mega casse niente ma no ragazzi siamo stati fortunati allora ragazzi i punti allora punti aspettate ragazzi metto bene allora all'incirca così vabbè no ma io se li mangio non posso mangio lo tengo io ok tre punti tre punti a maxine si tutti a maxine difficilissimo vai tutti a maxine ok qualcuno oppure a bombardino perché abbiamo fatto le sfide con bombardino non ma maxine c'eve un mappo che non sa cliccare ca sarco ancora dei punti nell'oraio no sfaced e bella ragazzi ma che dire allora abbiamo anche alti missioni non soけど party voi non vedete tanto so che ancora voi se ci abbiamo Joo sa so che voi leggete in arabo ma non so basta che girate no e allora ragazzi per questo video possiamo concludere qua abbiamo trovato di tutto e di più due noi brother mazzini livello 4 e poi rosa livello 4 tutti due mi sto potenzionando tutti ragazzi guardate diciamo azzini livello 4 ora ce ne facciamo ovviamente i penny vai potenza sai qual è il trucco mantieni l'ipad attimo ok ragazzi sapete perché stiamo gestionando così è perché con l'ipad un po' registrare non è all'interno perché lo spazio è finito e io non potrebbe neanche quanto è quello di livello pro beh ragazzi poi vedrete altri box e quindi per questo video possiamo concludere qui spero il video vi sia piaciuto quindi lasciate like e iscrivetevi e per questo video possiamo concludere qui ciao ragazzi grazie a tutti